Vicenza blindata sabato 20 gennaio per le due manifestazioni a sostegno della Palestina e per protestare contro la presenza di espositori di Israele alla Fiera Oro. Misure di sicurezza speciali come comunicato dalla Questura di Vicenza predisposte a seguito della riunione del Comitato Provinciale per Ordine e Sicurezza Pubblica presieduto ieri dal Prefetto. La prima manifestazione è prevista dalle ore 10 alle 13, convoglierà i centri sociali del Nord-Est in un corteo organizzato dal Centro Sociale Bocciodromo. La seconda, dalle ore 14 alle 19, è organizzata dalla Comunità palestinese con partenza da Viale Rome e arrivo all'Anfiteatro di Via Baracca. Ma specifici e mirati servizi di sicurezza e vigilanza al complesso fieristico saranno predisposti per tutta la durata dell'evento e anche in orario notturno l'afflusso e il deflusso dei partecipanti alla Fiera Vicenza Oro sarà regolato attraverso varchi presidiati da personale di vigilanza privata e monitorato dalle forze di polizia. Chiaramente l'auspicio è che le manifestazioni si tengano tutte in maniera pacifica. Ho detto chiaramente nei giorni scorsi che dal nostro punto di vista la città di Vicenza è accogliente con tutte le popolazioni e tutte le nazioni, quindi con gli espositori che arrivano da qualsiasi paese, compreso Israele. Ho anche detto che è l'occasione per ribadire da Vicenza la richiesta di un cessato il fuoco. Alto il livello di attenzione anche in base alle intenzioni dichiarate dai promotori del corteo che si svolgerà nella mattina di sabato. Intenzioni diffuse sui vari social quali arrivare alla fiera per bloccare il padiglione israeliano in quanto considerato si legge nella nota diffusa dal centro sociale Bociodromo a servizio dell'economia di guerra. Il questore ha disposto che il corteo non si avvicini al quartiere fieristico, partirà da via Rossi per concludersi all'anfiteatro di via Baracca. C'è più attenzione che preoccupazione, credo assolutamente che le forze dell'ordine e chi sta prontando tutti i meccanismi di sicurezza farà in modo che la manifestazione si svolga nella maniera più serena e tranquilla possibile, anzi l'auspicio e siamo convinti che sarà così, che sarà una delle migliori e più importanti edizioni di Vicenza Oro.